Musica Bentrovati amici di Udinese TV con il viaggio che faremo insieme in questo nostro appuntamento attraverso i poli sciistici della regione. Passeremo dallo Zoncolan, da Sappada, Sauris, Forni di Sopra e questi sono solo alcuni dei luoghi che con strutture e impianti di risalita eccellenti si sono confermati mete ideali per gli appassionati della montagna e degli sport invernali. Una stagione, quella di quest'anno, che è come confermato dai numeri e diramati dall'assessore regionale alle attività produttive e al turismo, Sergio Emidiobini, è andata molto bene con tanti turisti che anche da oltre confine sono venuti a far visita alla nostra regione. Musica Musica Una stagione che però non è ancora terminata e infatti gli impianti di risalita rimarranno aperti e attivi fino a fine marzo. L'occasione perfetta dunque per godere di quest'ultimo mese di neve in tutte queste località che oltre ad offrire tutto ciò che gli appassionati della montagna cercano, offrono anche tradizione ed eccellenze enogastronomiche. Musica Musica Musica